È ormai pronto il sito di trasferenza di via Brin, il capannone in cui saranno sistemati i rifiuti imballati in attesa di essere trasferiti via mare. L'impianto di via Brin era uno stabilimento in disuso che ora è stato completamente ristrutturato, nel tetto, nell'impiantistica antincendio, nell'impermeabilizzazione del pavimento mediante resine speciali antipercolato. Il presidente della SIA, Rafael Rossi, ha precisato che per ora il sito sarà utilizzato per la movimentazione di rifiuti imballati e destinati al porto e che per procedere con i trasferimenti all'estero si attendono ancora al alcune autorizzazioni definitive. È un passo avanti quindi per la partenza della prima nave verso Rolanda e da giorni sarà firmato il contratto per portare 100.000 tonnellate di rifiuti via mare. Alla fine dei trasferimenti il sito diventerà un'area logistica che ASIA utilizzerà per i mezzi di spazzamento e pulizia della città. Come sottolinea il vice sindaco Tommaso Sodano, i lavori sono stati realizzati in economia ed anche molto velocemente. Le navi vanno caricate in due tre notti al massimo e quindi bisogna avere un punto vicino al porto per consentire quest'operazione in tempi rapidi. Noi siamo veramente felici e siamo grati al lavoro straordinario che ha fatto la SIA per rendere questo sito fruibile e restituito alla città nel giro di poche settimane.